Pagina sportiva con basket, calcio, atletica, hockey e nuoto. Apriamo con il basket perché mercoledì il Gesan Lemura torna finalmente a giocare al palatagliate. Torna a casa Gesan Lemura dopo la buona, qualche sfortunata prova di Bologna sul campo della forte Virtus, seconda in classifica, la squadra di Urlaro torna finalmente al palatagliate e lo farà mercoledì sera ore 19 dopo oltre due mesi contro la molisana Magnoli a Campobasso. Va sottolineato che il periodo buio, almeno sul tema Covid, pare alle spalle visto che tutte le giocatrici sono negative e quindi a disposizione. Unica eccezione Laura Spreafico che pure aveva giocato e molto bene a Bologna con 16 punti a referto. Poi nelle ore successive aveva manifestato la volontà di lasciare Lucca e Lemura, di cui era anche capitana. Il caso è ancora aperto, anzi apertissimo, poiché la giocatrice è legata da un contratto fino al prossimo giugno e fino a prova contraria, se qualcuno lavorà a tesserare, dovrà sedersi al tavolo con i dirigenti lucchesi. Orfana della Spreafico, il Gesan Lemura torna dunque tra le muramiche, dove manca dallo scorso 24 ottobre, quando affrontò e fu nettamente sconfitto dalla Reier Venezia, capolista in battuta di A1. La sfida inedita contro Campobasso si profila difficile per mille motivi che possiamo facilmente intuire. Sarebbero tuttavia necessari due punti e una vittoria che manca dalla prima giornata, ovvero dal blitz di San Martino di Lupari. Tra le fila delle molisane da segnalare il debutto della lunga croata Evana Tikvic, che garantirà muscoli e rimbalzi sotto le plance. Gara indubbiamente complicata, ma che Lucca vuole assolutamente vincere. Per rilanciarsi e lasciarsi alle spalle questo folle e incredibile ultimo periodo. Tra l'altro sarà un tour de force per il basket Lemura che giocherà poi, ne parleremo successivamente, quattro partite in dieci giorni. Cambio di programma alla Lucchese, Lopez ha deciso di riprendere subito la preparazione fin da questo lunedì, con una breve pausa poi per Capodanno. In questi tre giorni il tecnico avrà a disposizione solo quei calciatori che abitano a Lucca o in zone limitrofe. Per gli altri il rientro è previsto il primo gennaio e il giorno dopo, ovvero da sabato, tutti al lavoro. Intanto è praticamente fatta per Francesco Marcheggiani. Il calciatore è già arrivato a Lucca e grazie ad un nulla osta si sta allenando con la Lucchese. Lo ha fortemente voluto proprio Giovanni Lopez, ma Marcheggiani non sarà il solo innesto, poiché arriveranno anche un altro attaccante, un centrocampista di livello e un difensore. Naturalmente partiranno diversi elementi, tanto che la Rosa, alla fine della sessione invernale del mercato, probabilmente sarà più snella di quella attuale. E siamo all'Atletica, la Virtus Lucca, possiamo dire che già nel futuro, in questo caso parola del presidente Nando Caturelli. Da circa due mesi al Moreno Martini sono iniziati tanto agognati i lavori di rifacimento delle piste e delle pedane. Attesi da tanto tempo ora sono realtà e vengono seguiti quotidianamente anche dai dirigenti della Virtus, in particolare da Sergio Martinelli. Non può mancare però un sopralluogo del presidente Virtusino Ferdinando Caturelli, che da tutto ciò trae un segnale di rinascita e di speranza. Sicuramente sì, quest'anno lo sappiamo tutti, è andata come è andata, le gale sono state fatte come sono state fatte, dove era possibile farle e ora siamo arrivati in fondo. Però noi abbiamo giustamente, come è fatto presente, questa grande occasione che i lavori stanno andando velocemente, veramente super controllati, in maniera veramente perfetta. Quindi io credo che in primavera si possa ripartire in maniera abbastanza tranquilla, abbastanza serena e ricominciare un pochettino la nostra attività in tranquillità. Ma forse anche in un'annata così tribolata c'è qualcosa da salvare. Un grande successo, diciamo, per noi, per tutti noi e personalmente anche per me. In fondo è stato il passaggio dell'idea Pieroni al gruppo sportivo Carabinieri e questo credo che sia una vittoria veramente di tutti, di noi Virtus, in particolare dei tennis. Ne approfitto per ricordare che a tempo di atletica tornerà col nuovo anno, martedì 12 gennaio. Si gioca martedì sera ore 20.45, recupero della quinta giornata di andata del massimo campionato di hockey su pista tra Follonica e Forte De Marmi. Dopo il pareggio interno, 3-3 con il Montebello, i rosso-blu campioni d'Italia cercano una vittoria che li potrebbe proiettare anche al vertice della classifica. Per quanto riguarda il nuoto, si svolgerà il 20 e 21 novembre del 2021 la 44esima edizione del meeting internazionale Mussi-Lombardi-Femiano, rinviato quest'anno a causa della pandemia. L'ha annunciato il Deus Ex Machina e organizzatore della manifestazione, Giovan Battista Crisci, presidente della Versilia Nuoto e del comitato organizzatore del meeting. Bene, è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG9, una breve pausa e poi la terza ed ultima parte.